Dice di aver ricevuto affetto e calore ben prima del suo arrivo a Bari, l'arcivescovo della diocesi di Bari, Bitonto, Monsignor Giuseppe Zatriano, che ha concesso alla nostra emittente un'ampia intervista, che andrà in onda questa sera, nel corso della trasmissione Senza Confini. Ascoltiamo adesso un breve stralcio. L'ingresso è stato un momento bello, ricco di gioia e di tanta vita, vita donata, perché aver vissuto questo ingresso anche con il saluto a Monsignor Cacucci, secondo me è stato un momento ricco di testimonianza fraterna, di vita vissuta, perché è confluito in quel momento il vissuto di un percorso realizzato da Monsignor Cacucci e si è aperto a un altro vissuto, quello in cui dovrò imparare a camminare con la gente di Bari, Bitonto, che mi ha fatto giungere il suo affetto già da prima, sin dall'inizio, dopo l'elezione, io ho ritrovato tanta accoglienza, tanta attesa, tanto calore, tanto calore. E questo poi è confluito tutto nella liturgia del 25, che è stato un momento veramente di grazia e di benedizione. Prima di arrivare a Bari è stato arcivescovo di Rossano Cariati. Allora, che cosa ha lasciato in quella terra e emergono delle prime differenze? So quello che, tra virgolette, mi manca, perché di lasciare non so cosa ho lasciato. Questo andrebbe chiesto a chi sta lì. Io so di aver non perso, perché poi quando la vita fluisce dentro la nostra esistenza, perdi e ritrovi, no? Credo che la nostalgia non ci debba appartenere, in quanto quello che forse io porto con me è una grande benedizione. Quindi non ritengo di aver lasciato, di aver perso qualcosa. Certamente alcuni affetti, alcune relazioni, alcuni spazi vissuti, attraversati con i sacerdoti, con il mondo laicale, hanno una loro tipicizzazione in quella realtà, che non ritroverò qui. Però, ecco, io non sento di aver lasciato niente. Sento di aver incontrato, attraverso la gente di Calabria, una benedizione sulla mia vita, che porto con me. Per cui io ringrazio il Signore di aver attraversato questo spazio esistenziale di sei anni in Calabria, che non immaginavo sarebbe terminato così brevemente. E lo porto all'interno dell'esperienza che il Signore mi dà da vivere qui.